Sapeva che Papa Francesco l'avrebbe creata cardinale? Ho imparato la notizia ieri mattina alle 5. Non sapevo niente. È una cosa inattesa, ma una sorpresa di Dio. Per lei che è stato stretto collaboratore dell'Arcivesco di San Salvador, il beato Oscar Romero, ucciso dalla dittatura il 24 marzo 1980, questa porpora cardinalizia, cosa significherà? Ho pensato a lui quando ha ricevuto la novela. Romero meritava questa porpora, ma il martirio è venuto prima. Dunque penso a lui quando il Papa mi ha chiamato al coletto cardinalizio. Esattamente, ho incontrato Romero quando io ero giovanotto, alle 14 anni. Romero era un giovane prete. Da questo momento abbiamo camminato insieme. E sempre, sempre Romero accanto a me. Lei è Vescova Ausiliare di San Salvador ed è anche parroco della comunità San Francisco a San Salvador. Da cardinale continuerà a fare il parroco? Ah, senza dubbio. Tutto per resta normale. Grazie. 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 Grazie a tutti.